Salve a tutti ragazzi qua dal Sibetv Oggi volevo mostrarvi dei moduli e delle tattiche personalizzati post patch che è uscita ieri Allora innanzitutto andiamo sulla rosa Volevo farvi vedere un paio di cose Passo la schermata così potete guardare anche voi Ok eccoci Allora Io uso il 451 per ibridare la mia squadra Come potete vedere perché sono uno Due Sono due campionati Allora andiamo su tattiche personalizzate Vi farò vedere prima il mio modulo che io uso spesso in game che è questo qua Il 451 E uso equilibrato In modo che abbiamo come dice anche il tutorial uno stile un po' più bilanciato E la mia squadra pressa di più a centrocampo Quindi va bene Poi ampiezza 40 Che sarebbe adotto un assetto bilanciato nella fase di non possesso palla Così facendo potresti andare incontro più situazioni di uno contro uno Ok Però cosa succede? Se ci allarghiamo troppo lasciamo buchi in centro Almeno così ce la giochiamo al centrocampo Profondità io metto quasi sempre a 70 Perché adotto un assetto bilanciato nella fase di non possesso palla È per mantenere il baricentro da squadra in mezzo al campo È per vincere lo scontro centrocampo Quindi queste due messe insieme Fanno tanto Cioè si gioca a centrocampo Non rischio tanto i lanci dalle retrovie Attacco messo manovra veloce Come dice il tutorial Questa tattica fa avanzare i giocatori per costruire più velocemente la manovra Però se possiamo facciamo girare un attimo palla E poi sfruttiamo questa tattica Poi occhio però a non perdere palla Potresti essere vulnerabile in caso di partenza Quindi se noi giriamo bene palla E troviamo gli spazi giusti È gol Grazie a occasione ho messo equilibrato Che i giocatori si inseriscono Quando se lo sentono Cioè se vedono che c'è l'opportunità Quindi diciamo che abbiamo un po' l'aiuto Del sistema EA Ampiezza ho messo 60 Che adotta un assetto bilanciato in fase di possesso palla Per mantenere un posizionamento generico Così da avere una maggiore varietà di opzioni in attacco Che mischiato all'equilibrato Mi dovrebbe creare più occasioni quando attacco Non dovrebbero esserci troppi giocatori marcati Giocatori in aria ho messo Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Perché bisogna fare anche un po' di sostanza in aria Perché se no raga è inutile che ci presentiamo in aria di rigore Con un giocatore Non facciamo niente Almeno che non sia un Neymar o un Bappé Che sappiamo usarlo Allora lì vi posso dare ragione Ma se no la vedo dura Angoli due Che secondo me è una via di mezzo Perché tre sono troppi Perché se no se partono in contropiede ci fanno gol Due, c'è qualcuno pronto a saltare Ma c'è anche molta persona dietro In caso di ripartenza Punizioni ho messo due Perché quasi tutte le punizioni le andremo a tirare Dai 30-40 metri in giù andiamo a tirarle Adesso vi faccio vedere il modulo Il modulo è questo qua Il 4-5-1 Abbiamo Navas Marchini ho Schipempe in difesa Traore terzino destro Mendy terzino sinistro Danjuma esterno sinistro Tushemi Tushemeni Cicci Dembele esterno destro De Jong Cioci Fekir Cioci Isaac primo punto Come facciamo adesso? Ora arrivano le istruzioni Molto fondamentali Le istruzioni Guardate un po' Isaac Lasciamo tutto predefinito Ma mettiamo Rientra in difesa Perché ragazzi Poi ci troviamo l'attaccante in centrocampo E possiamo Con i centrocampi e l'attaccante Partire tutti all'arrembaggio Tutti insieme E Fidatevi che Vi aiuta molto Che lasciare i rimani in avanti Perché rimani in avanti Troverete solo lui Che appena provate a Fargli un passaggio O col difensore centrale O col CC O il CDC Lui vi intercetta il passaggio Diventa un po' più difficile la manovra Allora Stessa cosa ho fatto con Fekir Rientra in difesa Così da una mano Tutto il resto ho messo Sempre equilibrato De Jong Uguale Ho solo messo De Jong Intercettazioni moderate Una cosa in più Tu Tushemeni ho messo Resta dietro In attacco Copertura al centro Danjum Ho messo Entra in aria per il cross In modo che Se c'è l'occasione Lui Si fa Si fa vedere Si Si inserisce E la stessa cosa L'ho fatta per De Belè Mi raccomando I terzini Entrambi Restate dietro In attacco Perché se Se partono Non li prendiamo più Nava Si ho messo Equilibrata Su entrambe le cose Poi scusatemi Adesso andiamo a vedere Andiamo a vedere Tattiche personalizzate Equilibrato Andiamo a vedere Il 4-4-2 Allora 4-4-2 Messo uno stile Di difesa Equilibrato Ampiezza 40 Profondità 50 Attacco Equilibrato Questo giro E crea occasione Passaggi diretti Che sarebbe Che quando la squadra Attacca I giocatori E i giocatrici O le giocatrici Proveranno A rendersi pericolosi Inserendosi alle spalle Della difesa Gli attaccanti veloci Con attributo E posizionamento In attacco Elevato Sono i più indicati Per questa tattica Uno Isaac Comunque Gente Veloci Con buon piede Soprattutto Ampiezza 45 Giocatori in aria 3-4-5-6-7 Anche qua 2-2 Andiamo a vedere Come io ho sposto La La mia squadra Come potete vedere L'unico passo Che ho fatto È mettere Fekire in attacco Insieme a Isaac E arretrare De Jong Insieme a Tushemeni E poi per le istruzioni Metto A Isaac Un falso 9 Con rientra in difesa Un Fekire Che è veloce Inserisci ti alle spalle E rientra in difesa A ICC Metto CCC O CDC Adesso non mi ricordo bene Cosa fanno in questo ruolo Metto copertura al centro E resta dietro in attacco E intercetta Linea del passaggio Agli esterni Qua ho lasciato Tutto predefinito Ai terzini Resta dietro in attacco E Al portiere Equilibrato Adesso Andiamo a vedere Un altro modulo Il 4-2-3-1 Io Vi consiglio di usarli Tutti E questi moduli Che vi sto facendo vedere Provateli Provateli in amichevoli Perché quest'anno Le rival Sono già un po' più Diciamo Più competitive E' inutile andare a perdere partite Per provare moduli Possiamo provarli anche in amichevoli O con amici Isaac Io ho lasciato In questo giro Io ho lasciato tutto Normale Fekire Rientra dietro in difesa Dembele L'ho messo COD E ho messo Entra in area Per il cross Idem Ho fatto per la stessa cosa A Danjuma Io ho aggiunto anche Intercettazioni moderate Solo a Danjuma E vi consiglio una cosa Quando avete Questi giocatori Io ho messo COC Uno come Fekir Che ha passaggio Tiro e dribbling E quindi E' a supporto Della punta Più larghi Ho messo Gente più veloce E Con buon tiro Comunque anche Però Più che altro Veloci col dribbling Poi Ho arretrato Tu Scemeni De Jong E io ho messo entrambi Intercetta linea di passaggio Resta dietro in attacco E copertura al centro E Come sempre Terzini Resta dietro in attacco Adesso andiamo a vedere Il 4-3-2-1 Equilibrato 50 25 Di profondità Manovra veloce Passaggi diretti Ampiezza 37 Giocatore in aria Qua aumentato Ho messo 3-6-7-8 2-1 Moduli Come potete vedere Ho deciso di far così Mettere Isaac Dembélé Danjouma Tushemif Solo rientra in difesa Danjouma E rientra in difesa Dembélé Però a Dembélé Ho anche aggiunto Intercettazioni moderate A Fekir Gli ho detto Resta indietro in attacco Resta al limite Per il cross Intercettazioni moderate Copertura al centro Idem per De Jong Idem per Tushemif I soliti terzini Come potete vedere Li lasciamo indietro Questo modulo Io lo uso Raramente Perché lo uso Proprio in casi Di vittoria 2-0 Vedo che sta attaccando La prova a difendermi Un po' di più Con Fekir Che non attacca L'ultimo modulo Che secondo me È il più efficace Dopo questa patch Metti ripiega Gli stringiamo tutti Ampiezza 5 Profondità 5 Palla lunga E passaggi diretti Ampiezza 5 Molto concentrato Sul centro campo Giocatori in aria 1 Angoli 1 Punizioni 1 Questo modulo È fatto per chi Patisce in difesa Ok E adesso Che hanno patchato I giocatori controllati Dall'EA Sarà molto più difficile Andare a intercettare L'avversario Come modulo Potete vedere Come ho messo Isaac prima punta Fekir C o C No sarebbe una T Tushemi E De Jong C C Dan Jum Adembele esterni Come istruzioni Andiamo a mettere Rimani centrale A Isaac Inserisciti alle spalle Fekir Non ho messo niente Equilibrato Faccio fare a lui Ai soliti C C Metto Resta dietro in attacco Copertura al centro Anche a lui Resta limite Per il cross Giustamente Agli esterni Ho lasciato base Anche a lui Ho lasciato base E i soliti Terzini Che rimangono Dietro in attacco Se Adesso Questo video Si è concluso Qui Se volete Darmi qualche Consiglio Se avete bisogno Di qualche consiglio Non esitate a scrivere Nei commenti Perché io sono Ben disponibile Io vi lascerò Sotto Il mio link Instagram E Twitch Dove potete Seguirmi Direttamente In live E io vi consiglio Questi moduli Non stateli a pensare Ah che schifo Provateli Tanto provare Non costa nulla E provando Moduli e tattiche Che si trova anche La propria tattica E il proprio modulo Non sempre Si va a copiare Il modulo E le tattiche Degli altri Io vi sto proponendo Queste Non dico Di farle uguali Perché non avete La mia stessa squadra Avete altri giocatori Allora provate a prendere Delle piccole basi Da queste mie tattiche E i miei moduli E cambiate un qualcosa In più Rispetto ai vostri giocatori Ricordatevi sempre Che avete dei giocatori Magari anche forti Se avete un Neymar Dovete pensare Anche a un modulo Una tattica Che lo faccia girare bene Un Neymar Perché è fondamentale Un Neymar Omba P Io dopo questo Non so più cosa Posso dirvi Cioè vi auguro Un buon gameplay Mi raccomando Lasciate un like E condividete questo video Se vi è piaciuto Usciranno altri Nuovi moduli Altre nuove tattiche Usciranno Come avete visto L'altro giorno Ho fatto uscire Un nuovo Metodo di compravendita Molto efficace Io ve lo consiglio Personalmente Se volete Andarlo a vedere Andate sulla mia pagina Ne troverete Nei successivi video E io Non mi resta più Altro da dire Vi saluto Vi auguro Una buona domenica E un bacio dal Sib Raga Bella E un bacio dal Sib